La svolta, il risultato è che si può significare qualcosa di più che lo psichologico, che tecnici prossimi? Io fino al momento in cui c'è stata data una numerica, c'è stato anche un'idea di risolvere. In periodità numerica abbiamo sofferto un po' di burro, alla fine abbiamo rischiato tutto, altrettanto con un solo centrocartista, più ragusa, con tre attaccati, Putolo, Poletano e Madoana alla fine del maniere. Abbiamo rischiato, è data 3, sono stati premiati dalla volta, però il 10 contro 11 è chiaro che contro una squadra forte abbiamo sofferto un po', non era normale. Per un tempo vi ho ripratto con tanti errori tecnici, è stato un po' quello il limite stasera, perché avete fatto bene la fase difensiva fino al gol, però davanti avete creato per la prima volta poco niente. Sì, è vero, è vero quello che mi ha detto lei, perché abbiamo sbagliato diverse, infatti nemmi sbagliato bene abbiamo analizzato questo, proprio perché nell'ultimo passaggio, nella ripartenza abbiamo fatto degli errori che diciamo che se facevamo bene, potevamo arrivare a creare tanti risultati, abbiamo sbagliato tanti traseggi, tanti passaggi semplici, c'era un po' di tensione, la palla circolava abbastanza la roce e questo diciamo ha fatto sì che abbiamo preso tanti palloni, tanto opportunità anche agli avversari, qualcuno anche è uscito, qualcuno negli ultimi metri, quando stavamo ripartendo per rivedere dalla profondità e questo certamente ci ha penalizzato il tempo di creare occasioni. Sicuramente non l'ho visto, dalla macchina non possono indicare se è stata sedeva l'uomo, ci poteva stare il rigore magari della munizione perché magari si era allargata un po' fuori, insomma c'erano giocatori che stavano prendendo la porta, insomma. Domande? Grazie a tutti.